Io ho già fatto preparare Mario Tata, un premio al merito. Mario Tata? Diamo una targa al merito? Al merito questa, eccolo che arriva, eccolo che arriva. Anche lui sfila? Anche, certo. Eccolo qua, tutta la pastorella eh? No, 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 e te lo vuoi camare così? Brava Simona, brava, perché ha cercato di... Volevi fare la deviazione? Mi hai fatto il diagonale come a bigliardino? No, mi devi giocare di sponda, così che tutti quanti possiamo goderci il tuo arrivo qui sul palco. Accogliavolo con un forte applauso, Fabrizio. Mario Tata. Mario Tata. Eh, così ci piace di più eh? Guarda, guarda, guarda. Sai come si dice in inglese? Guarda quanto si bello eh? In inglese lo dico. Mi piace di più anche a lui, ho visto una certa soddisfazione. Buonasera, maestro. Ecco qua. Allora, dando due parole magari sull'opera che ha fatto, poi diamo la parola a lui e poi diamo la targa. Sì, allora, l'arte di Mario Tata, come potete vedere, è una pittura informale, un informale realizzato su materiali di recupero che grazie al colore acquistano nuova vita, una nuova dimensione di esistenza. E la cosa più bella è sentir parlare lui della sua pittura, perché si evince dalle sue parole come effettivamente la sua creazione sia piacere, sia gioco, sia gioia, che è poi alla base di ogni lavoro artistico che nasce dal cuore. Perché l'artista è essenzialmente un bambino che recupera la sua gioiosità, il calore dell'infanzia, delle cose spontanee. Ecco, allora, sono onorato Mario di darti personalmente questa targa, perché sai quando... ecco a te. Un applauso per Mario. Bene, non posso dire che è un'esigenza di noi pensionati, per forza, dopo il lavoro ci dedichiamo a giocare con i colori e siccome è un gioco usiamo prodotti di recupero, il che va anche in tema con l'ambiente, con il discorso di questa sera, più si recupera e meglio è. E intanto voglio dire che ho scoperto che anche altri, non che altri, che artisti di un certo livello, di un certo fama usano questo tipo di materiale e fanno rivivere i cartoni, i legni e quant'altro. Le stesse tele cambiano di colore. Per gli aspetti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie Mario. Complimenti Mario, veramente... Cioè, poi questo fascino del materiale di riciclo io lo trovo davvero incredibile.